In questo video raga andiamo a completare veramente delle missioni semplicissime ma che in realtà credo siano alcune bagate come questa qui di visitare il centro creativo NBA semplicemente per completare questa missione raga dovremo cliccare su creativa, fare accetta, giocare e semplicemente andare nella sezione crea e fare avvia semplicissima missione raga una volta entrate appunto vedremo proprio la creativa dedicata a NBA in questo caso raga sta missione a me è già due o tre volte che la faccio ma non me la conta quindi molto probabilmente è pagata ma teoricamente basterà fare come stiamo facendo ora e come potete vedere siamo già dentro e dovrebbe già darci la missione così raga però a quanto pare è pagata quindi riprovate ecco come potete vedere è proprio pagatissima raga probabilmente c'è un botto di gente che sta entrato ma non in caso per fare questo incarico vedete che non me l'ha contata dovete semplicemente fare creativa e fare semplicemente avvia avviate tranquillamente raga nella sezione creativa quindi fate giochiamo qui vi usciranno appunto le quattro modalità fate crea avvia e la missione verrà automaticamente completata non appena inserirete appunto l'avvia entrerete nel centro creativa NBA ve la conterà automaticamente probabilmente è pagata se non ve la fa neanche a voi riprovate tra un paio di minuti barra ore in ogni caso ci vediamo tra poco per la missione bislacchissima ciao 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 ciao